Seconda serata di prove in Piazza Grande, la serata in cui si sono spezzate due lance, una spezzata da Enrico Vedovini, è la prima volta che gli accade di spezzare la lancia durante le prove, l'altra lancia invece da una delle riserve di Porta Crucifera Manneschi che però poi non è riuscito a tenere in pugno la lancia. Al di là di questo è stata una serata in cui sono andati abbastanza bene i cavalli di Porta Santo Spirito, sono arrivati anche due 5-10 cerchi ai scortecci, scortecci che ha avuto anche una piccola caduta nella parte finale delle prove della prima giornata, niente di serio, comunque prove discrete ancora una volta anche per Porta Crucifera e Porta del Fuolo. Abbiamo detto della lancia spezzata di Enrico Vedovini, allora sentiamola. Fa parte del gioco, insomma, è una sensazione che non avevo mai provato dal 95 a oggi, siccome ho provato anche questa stasera posso dire. Ormai costruiamo questa giostra, tutte le giostre vanno costruite tassello dopo tassello, stasera ho portato una cavalla di riserva, ho portato solo lei perché ho voluto avere tutta la mezz'ora libera a disposizione, perché è vero che bisogna pensare ora ma bisogna pensare anche a un futuro e il futuro lo crei solamente se lavori con dei cavalli che già hai scelto, che però li porti qua e li metti alla prova. Ho sempre fatto, fino a quando avevo la stella, ho sempre portato due cavalli alle prove, questo perché penso che può sempre succedere qualcosa. La giostra ormai è diventata un giochino millimetrico e la vinciamo e la perdiamo per millimetri e sono i millimetri che fanno la differenza, siccome bisogna farsi trovare pronti il più possibile. Il cavallo nella giostra di oggi è fondamentale perché è un cavallo che ti va dritto, un cavallo che ha una buona andatura, logicamente fa la differenza, fa la differenza tantissimo e quello che conta più che altro è il binomio perché un cavallo non lo costruisci come ti ho detto prima in una giostra o in un anno, c'è dei cavalli che andando con il tempo peggiorano, dei cavalli che migliorano, passano delle annate che sono in un modo e delle annate che sono in un altro, siccome più che altro conta il binomio.